rispetto e conoscenza e la conoscenza è quello che possiamo fare noi diciamo così da studiosi di divulgare il più possibile quello che possono fare una delle funzioni anche delle aree marine protette quindi la divulgazione, la educazione ambientale, il caso delle tartarughe è stato un caso emblematico anche proprio di citizen science e di partecipazione di cittadinanza proprio attiva e quindi è importantissimo, dovremmo applicarlo a tutto anche a cose meno eclatanti come le tartarughe dovremmo applicarlo anche alla posidonia appunto però io vedo che è aumentato diciamo la coscienza, molti mi dicono le barche ancorano, molti adesso percepiscono questo problema quindi io negli anni ho visto aumentare la consapevolezza e l'attenzione questo è sicuramente positivo